Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e terminata Salerno, 2-2 tra Salerno e Italia e Milan, partita divertente, soprattutto nel finale si è accesa, che dire ragazzi, sono punti pesanti, sono punti pesanti che perdono entrambe le squadre, perché il Milan perde due punti, visto che era in vantaggio, perde due punti nella rincorsa alla Juve, nella rincorsa all'Inter e perde terreno sulle sue inseguitrici, perché infatti ha già perso due punti rispetto alla Fiorentina, che ha vinto a Monza, e vedremo cosa farà a Bologna, vedremo cosa farà a Napoli, l'Atalanta, la Roma, e la Salernitana perde due punti per provare a dacchanciare momentaneamente l'Ellas, pensando anche in ottica prossimi scontri, perché nella prossima giornata ci sarà appunto lo scontro in zona di retrocessione tra la Salernitana e la Serona. Che dire, per me la Salernitana avrebbe meritato di più, perché il Milan a un certo punto non ci ha capito più nulla, non è stata capace di gestire il gol di vantaggio, non è stata capace di rientrare in partita prima nonostante avesse avuto delle occasioni, e ragazzi, c'è un giocatore che a me piace tanto, ve l'ho già detto, ma mi sta indispettendo veramente tantissimo, se io fossi un tifoso del Milan sarei arrabbiatissimo. Non è possibile che Rafa Leao non segni in campionato dal 23 di settembre, gol contro l'Ellas Verona. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? È inaccettabile. Inaccettabile. Anche come ha giocato la palla in quell'occasione in cui il Milan ha avuto questa ripartenza in campo aperto, è pura follia, l'ha sparata fuori dallo stadio Arecchi. Non diciamo cavolate, ragazzi, non diciamo cavolate. È inaccettabile una roba del genere, è inaccettabile. Inaccettabile. Un giocatore come Leao deve fare la differenza. Un giocatore come Leao deve essere lui a prendersi per mano la squadra e deve essere lui a trascinarla. Invece ho visto un Leao nervoso, un Leao svogliato, un Leao che ha fatto degli errori tecnici brutti. E non è accettabile, perché il Milan dipende tanto da questo giocatore. Come la Salernitana dipende da Candreva e di Hai. E io continuo a dirlo, Candreva e di Hai, di Hai e Candreva. Adesso vedremo cosa si è fatto il giocatore africano. Spero nulla di grave, anche perché ce l'ho fatta caccia. Oggi ho perso medaglia di miei giocatori. Pazzesco. Però, ragazzi, è allucinante. Allucinante l'atteggiamento. Non va bene, non va bene. Non va assolutamente bene. L'atteggiamento di Leao, ovviamente. Cioè, prendete Leao e prendete Candreva. Guardate Candreva, ha 36 anni, che comunque non ha nulla da dimostrare. Come si sbatte, guardate Leao. La sfogliatezza. Il pioli che gli deve dire la parolina, perché sennò Leao si frustra. Ma cosa ti frustri? Cos'è di essere frustrato, nervoso? Pensa a giocare. Pensa a fare la differenza. Che tu hai ancora sul grappone, quell'errore, quel gol sbagliato contro Newcastle per fare il fenomeno. Cioè, ragazzi, si deve svegliare Leao. Perché, cioè, Leao è chiamato a fare il salto di qualità. È un 99. È un 99 Leao. Cioè, si deve assolutamente svegliare. Perché sta entrando in un'età, comunque, che inizia ad essere importante. E questo Milan ha assolutamente bisogno di lui. Poi, il Milan, per carità, ha avuto le sue occasioni anche con Jovic. Che poi ha trovato, secondo me, anche un gran bel gol. L'ha fatto sembrare, a mio avviso, più facile di quello che era. È stato bravo Kostil. Ma, come dall'altra parte, era stato bravo Maignan. Maignan, in più occasioni, era stato bravo a impedire il gol. Poi ha fatto un errore imbarazzante e osceno sul gol di Candrema. Ma è veramente un paperone allucinante. Però, poco dopo, subito altro paratone. Però, ragazzi, cioè, il Milan oggi stava giocando per la Salernitana, ultima in classifica, che fa fatica a fare gol. Fa veramente fatica a fare gol. Ne prende tantissimi. Cioè, e il Milan ha tirato 21 volte, di cui 9 importa. La Salernitana 19 volte, di cui 7 importa. Cioè, ragazzi, l'ultima in classifica. L'ultima in classifica è il Milan doveva scendere in campo con una fame allucinante. Con una fame allucinante. Invece no. Invece no. Dopo il 3-0 rifilato al Monza, il Milan ha fatto dei passi indietro di nuovo. Poi ammettiamoci che è stata sfortunata perché si è fatto male a Tomori. Mi ha fatto a calcio. Si è fatto male a Kier. Questo, fortunatamente, non mio. E va bene. E va bene. Però non è una giustificazione. Non è una giustificazione. È proprio l'atteggiamento, a mio avviso, che non va bene. È l'atteggiamento. Perché se domani la Juve vince, va a 40. Se l'Inter domani vince, va a 44. Mette il Milan 11 punti. 11 punti. Vergognoso. 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 E il Milan deve ringraziare che il Napoli ha perso un sacco di punti, che l'Atalanta ha perso parecchi punti, che la Roma ha perso tanti punti. Perché il Milan è terzo. Non si sa bene come, eh. Per come gioca. Questo grande gioco. Di Pioli, che io sento sempre saldare Pioli. Poi, per carità, incidono i fortuni. Certo che incidono. Certo che incidono. Ma, ragazzi, ma la prestazione. Cioè, oggi non sapevano cosa fare. Se mettere il pallone in mezzo. Se giocare centralmente. Cioè, ho avuto proprio la sensazione di un Milan che a un certo punto non sapesse più cosa fare. Ed è preoccupante. Perché le fai contro l'ultima in classifica. Cioè. Io, ragazzi, veramente. Poi, cioè, mi fanno piegare questa cosa. Non sai che dalla Salernità è di marcare due su tutti. Ma veramente due su tutti. E non lo fanno mai. O non lo fanno bene. Cioè, incredibile questa cosa. Incredibile. Poi mi è piaciuto Coulibaly. E io continuo a dire che per me Coulibaly è un giocatore che deve stare in una squadra di medio-alta classifica. Perché mi piacerebbe proprio vederlo in una realtà passando in termini più impegnativa. Che gioca per trofei importanti. O comunque competizioni importanti. E... E nel Milan, onestamente, non saprei chi salvare. Faccio fatica a trovare qualcuno da salvare. L'off to Cic non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Anche oggi l'off to Cic non mi è piaciuto. Proprio sono veramente deluso. Sono veramente deluso. Lo dico da Juventino. Sono veramente deluso. Io mi aspettavo molto di più da questo Milan. Molto di più. E invece mi sta deludendo. Partita dopo partita. Anche in certe partite che ha vinto. A me non... Non ha convinto. Non ha convinto. Non ha convinto. Povero Milan. Povero Milan. Povero Milan. E gli è ancora andata bene che è riuscita a pareggiare. Li è ancora andata bene. Li è ancora andata bene. Però ragazzi... Il Milan così non va da nessuna parte. Io vedo un Milan che si affida tanto ai singoli. A Giroud. A Leao. Però... A Pulisic stesso. Però si affida per lo più a giocate individuali. Io non vedo una squadra. Anche oggi quando è andata sotto. Io non ho visto uno spirito di squadra. Il Milan per dire che ha vinto lo scudetto. No. No. Non ho visto niente di tutto ciò. Non vedo... Non vedo una squadra. Lo spirito di sacrificio. Di lotta. Non lo vedo. Non lo vedo. Non vedo coesione. Mi ripeto. Mi sembrano giocatori che cercano giocate... Così... Un po'... Come viene. Come viene, viene. No. Detto ciò, complimenti alla Salernitana. Perché ha fatto, a mio avviso, una grande partita. Faccio i complimenti a Pippo Inzaghi. Io continuo a dirlo. Per me Pippo Inzaghi è in gamba come allenatore. La Salernitana a me sembra una squadra comunque sia viva. Pagano le scelte di mercato imbarazzanti. Adesso è tornato a volte a Sabatini. Io fossi lui. Non avrei accettato. Per come era stato trattato. Dal grande presidente. Io confido in Sabatini. Senza dubbio. E vedremo cosa verrà fuori. Vedremo cosa verrà fuori. Prepariamoci a delle bombe di mercato. E vedremo anche cosa succederà via. Detto ciò. Io vi mando fuori da braccio. Vi trascrivervi al canale. Di Fone del Verbo. Ci vediamo domani per la partita della Juve. Questo è poco. Ma è sicuro. Ciao.